Monta la protesta per la situazione in cui si trova l'ospedale di Sciacca, tra carenze di personale e difficoltà a garantire i livelli essenziali di assistenza. Forte presa di posizione del Tribunale per i diritti del malato, sindacati e classe politica. A tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale di Sciacca sembra scontata l'elezione a Presidente di Ignazio Messina, ma la maggioranza consigliare dovrà mostrare compattezza, manovre in corso per far saltare il banco. Nuova giunta a Sciacca, l'esperienza in Consiglio mi è stata utile, anche se adesso il mio ruolo sarà diverso. Lo evidenzia l'assessore Valeria Gulotta, chiamata ad occuparsi di sport, ma anche di servizi a rete e della Polizia Municipale. Cronaca, ennesima truffa online, vittima un agricoltore trapanese che avrebbe voluto acquistare un trattore, ma ha soltanto visto alleggerire la carta di credito. Altro episodio di truffa e distorsione nel comune di Castelvetrano. Tariffe Rigue, la giunta regionale ha approvato le variazioni di bilancio, nessun aumento del costo dell'acqua. Lo ha ribadito l'assessore Tony Scilla, che ieri ha incontrato i sindaci del comprensorio di Ribera. In arrivo anche i fondi Covid. Dopo dieci anni di chiusura è stata riaperta ieri pomeriggio la chiesa della Misericordia di Burgio. Presenti l'arcivescovo Damiano e l'assessore regionale Zambuto. Il restauro è stato effettuato grazie ad un finanziamento di 850 mila euro. Un cordiale saluto di benvenuto, ben trovati su Telemontecronio per un nuovo appuntamento con l'informazione. L'ospedale di Sciacca, tra gravi carenze di personale e difficoltà nel garantire i livelli essenziali di assistenza, oggi sul tema intervengono Tribunale dei diritti del malato e Cittadinanza Attiva, che tornano a criticare la coesistenza di due ospedali doppioni. Riferimento al Giovanni Paolo II, il fratello di Parla Piano, a 20 chilometri di distanza. Dure critiche al management anche da parte del parlamentare regionale Carmelo Pullara. Il punto in questo servizio. Il Covid è stato utilizzato anche come strumento per smantellare la sanità pubblica nel nostro distretto, in particolare la funzionalità dell'ospedale di Sciacca, che dovrebbe essere soprattutto un presidio di emergenza e urgenza, e che, anche come ospedale Stroke, avrebbe dovuto garantire ai cittadini di un vasto territorio salute e sicurezza. Questa è la posizione di Tribunale dei diritti del malato e Cittadinanza Attiva all'indomani del nostro servizio, che ha tratto spunto anche dalle riflessioni pubbliche del presidente dell'Associazione Orazio Capurro sulle criticità del Giovanni Paolo II. Lì la piazza per il Tribunale dei diritti del malato e Pierina Di Martino per Cittadinanza Attiva dichiarano di condividere le critiche sull'opportunità di impegnare risorse economiche, umane e strumentali in favore dell'ospedale di Ribera, perché questo non solo non migliora la qualità della sanità pubblica, ma di fatto la danneggia ulteriormente. Nel Mirino, ma non è la prima volta, torna dunque quella che viene definita irrazionale idea di utilizzare due presidi ospedalieri con funzioni similari ad appena 20 chilometri di distanza, forse unico caso in tutto il nostro paese, dicono Di Martino e Piazza. Le associazioni chiedono dunque di porre fine a quella che viene definita un'agonia che attanaglia l'ospedale di Sciacca, che attraversa, osservano le responsabili di Tribunale dei diritti del malato e Cittadinanza Attiva, un periodo di grande sofferenza di cui sono vittime i malati, ma anche il personale sanitario costretto a sopportare in silenzio, anche a causa di norme e regolamenti, la propria insoddisfazione. Il Tribunale dei diritti del malato chiede infine di essere presente, con una propria rappresentanza, all'annunciato nuovo incontro tra i vertici dell'Aspio e il Sindaco e la Presidente della Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana. Intanto il Vice Presidente della predetta Commissione Salute, Carmelo Pullara, torna ad attaccare il manager Mario Zappia. Ad Agrigento dice Pullara la sanità sta morendo sotto una visione ragioneristica e di alchimie amministrative, volta ad una gestione delle risorse umane, spesso indiformità alle previsioni delle logiche normative, all'emergenza quotidiana, forse a volte non tanto emergenza. Nel mirino delle polemiche, la situazione di pronto soccorso e reparti, definita da Terzo Mondo, ma anche ai ritardi delle procedure di reperimento del personale, in un momento di grave impennata dei contagi, di aumento della popolazione sul territorio per la presenza dei tanti turisti. Stigmatizza, Pullara, la riduzione delle ore del personale assunto per l'emergenza Covid e per Pullara la gestione sanitaria, definita da lui senza idea delle priorità, è a tutto volta tranne che al principale fine di assicurare prestazioni sanitarie adeguate. E d'altra parte, attacca Pullara, siamo di fronte ad una gestione amministrativa lasciata senza una programmazione e senza un'idea. Ribadisce il deputato regionale la necessità che si incrementi anche il personale sanitario non medico per sopperire all'assistenza e garantirne un'adeguata presenza anche attraverso mobilità e stabilizzazioni, questione delle stabilizzazioni al centro di polemiche per la decisione di dare priorità ai concorsi. E sempre oggi il responsabile sindacale della CISL Funzione Pubblica, Alessandro Farruggia, torna a sollevare il problema dei tecnici del laboratorio biomedico di patologia clinica del Giovanni Paolo II che, essendo troppo pochi, sarebbero sottoposti a turni massacranti e non riuscendo nemmeno a programmare le ferie estive. E intanto continua ad essere un focolaio Covid il reparto di nefrologia e dialisi, con personale sanitario costretto a gestire sia i pazienti contagiati che quelli non contagiati. Questione per la quale i medici hanno chiesto di bloccare il ricovero almeno per una settimana, richiesta al momento non accordata. E si apprende allo stato di sofferenza di diversi altri reparti, oltre a quelli già noti, dove la disponibilità di medici è talmente limitata da impedire loro di poter godere, anche in questo caso, del diritto alle ferie. Al rischio, però, ai livelli essenziali di assistenza, anche per la penuria gravissima di infermieri, si apprende da indiscrezioni che una situazione assai critica riguarderebbe anche il reparto di medicina. Insomma, la questione ospedaliera di Sciacca, e non solo di Sciacca, naturalmente, al momento è un vero e proprio nervo scoperto della vita pubblica, che richiede un impegno con i riflettori sempre accesi, almeno questo, da parte della nuova amministrazione comunale. Politica fra tre giorni, la prima seduta del Consiglio Comunale di Sciacca, dopo le elezioni amministrative di giugno. Si parte dal giuramento dei neoeletti per poi passare all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale. In teoria sembra scontata l'elezione di Ignazio Messina, ma la maggioranza consigliare è chiamata a dimostrare la forza dei numeri e la compattezza del gruppo, mentre sul fronte opposto la coalizione, che sostiene Fabio Termine, pare stia facendo più di qualche tentativo per far saltare il banco. I dettagli in questo servizio. La prima seduta del Consiglio Comunale di Sciacca è in programma venerdì 15 luglio, con inizio fissato alle ore 20. È quella dell'insediamento e giuramento dei 24 nuovi consiglieri, ma che prevede tutta una serie di adempimenti che culmineranno nell'elezione dei vertici di Sala Falcone Borsellino, ossia Presidente e Vicepresidente. Un primo passaggio è previsto per domani mattina, su iniziativa del Consigliere Calogero Bono, il più votato alle elezioni del 12 giugno scorso, e che pertanto presiederà la seduta almeno fine all'elezione del Presidente. Domani mattina alle ore 10 al Palazzo Municipale è prevista una sorta di conferenza dei capigruppo, una riunione alla quale Calogero Bono ha invitato a partecipare i consiglieri più votati di ogni lista, oltre all'assessore ai rapporti con il Consiglio Comunale Salvatore Mannino, alla presenza del Segretario Comunale. L'obiettivo è quello di pianificare la seduta di insediamento, quella in cui preliminarmente si procederà al giuramento dei 24 consiglieri eletti e alla convalida, per poi passare all'elezione del Presidente e Vicepresidente, al giuramento del Sindaco e presentazione della Giunta e poi ancora alla composizione delle commissioni consigliari. Difficilmente si arriverà a quest'ultimo adempimento anche perché l'elezione di Presidente e Vicepresidente, che in teoria appare come una pratica celere e scontata, in realtà potrebbe nascondere più di qualche insidia. A tre giorni dalla seduta è Ignazio Messina, il candidato alla presidenza. Non ci sono novità rispetto alle decisioni che la maggioranza consigliare, che per la prima volta sarà all'opposizione della nuova giunta, assunto già da qualche settimana. Un'elezione senza sorprese da questo punto di vista e che si basa sulla forza dei numeri. La coalizione che ha sostenuto la candidatura a Sindaco di Ignazio Messina aveva già bloccato prima del turno di ballottaggio il premio di maggioranza, avendo ottenuto con l'apparentamento oltre il 50% dei voti e conta 15 consiglieri su 24. C'è poi un sedicesimo consigliere di opposizione e Maurizio Blò della lista Mangiacavallo Sindaco, che non si è schierato né con Messina né con Termina le elezioni del 26 giugno scorso. Numeri schiaccianti dunque d'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio apparentemente facile facile, ma questa maggioranza consigliare dovrà comunque dimostrare con il voto la compattezza e la tenuta. Non è un mistero che ci siano altri esponenti del gruppo ad ambire alla Presidenza del Consiglio, seppur hanno dovuto mettere da parte questo desiderio di fronte alla candidatura di Ignazio Messina. Poi c'è l'altro fronte, quello della minoranza in Consiglio che sostiene l'amministrazione Termine. Sono otto consiglieri che in prima battuta di fronte alla prospettiva di Messina Presidente voteranno chiaramente per un loro candidato. Si fa il nome del consigliere Alessandro Curreri, che pare un tentativo di andare oltre gli otto voti lo stia facendo, puntando magari a qualche collega a cui la prospettiva di cinque anni all'opposizione sta stretta, o a chi mugugna, e non poco rispetto alla prospettiva di affidare di Ignazio Messina il prestigioso incarico di Presidente, anche dal punto di vista economico. C'è poi da tenere conto che l'amministrazione guidata da Fabio Termine è ben consapevole che la strada è tutta in salita di fronte ad una così nutrita opposizione. Insomma, la ricerca di allargare il ristrettissimo campo dei consiglieri a favore potrebbe iniziare già dalla prima seduta consigliare e proprio dall'elezione dei vertici di Sala Falcone e Borsellino. Sono sufficienti 4-5 consiglieri per far saltare la scontata elezione di Ignazio Messina alla prima votazione e alla seconda potrebbe succedere di tutto. E proseguiamo anche oggi la conoscenza dei nuovi assessori dell'amministrazione comunale guidata da Fabio Termine al nostro microfono Valeria Gulotta a cui tra le altre sono state conferite le deleghe allo sport e servizi a rete alla Polizia Municipale. Al microfono di Massimo D'Antoni l'assessore dice l'esperienza di consigliera comunale mi è stata molto utile anche se adesso il mio sarà un ruolo diverso. Sentiamo. Assessore Gulotta, anche lei ha un bel numero piuttosto alto di deleghe? Sì, diciamo che il numero potrebbe sembrare irrisorio perché sono 6 però la consistenza delle deleghe è importante perché spaziano le mie deleghe tra lo sport che è un bellissimo settore però ha bisogno di un rinnovamento sia per quanto riguarda l'impiantistica sportiva sia per quanto riguarda un po' la regolamentazione delle varie attività sportive oltre che la calendarizzazione degli eventi più importanti che già stiamo mandando avanti. I servizi a rete diciamo che è un po' scottante come delega promose transenne diciamo? Parte delle transenne, per fortuna non sono tutte di mia competenza però buona parte sì e anche per quanto riguarda i rapporti con il gestore dell'acqua AICA poi possiamo spaziare anche tra la polizia municipale che è un reparto molto efficiente del nostro comune che comunque lamenta anche mancanza di unità che il comune sicuramente non può sopperire nell'immediato ma è un'ulteriore responsabilità diciamo che è grava sulla mia posizione. Con lei ha un po' di esperienza come consigliere comunale ma naturalmente misurarsi con l'attività amministrativa è al debutto da questo punto di vista. Con quale approccio anche sul piano proprio propositivo personale? Allora l'esperienza consigliere certamente mi è utile logisticamente perché avendo frequentato il comune per cinque anni diciamo che so dove andare a bussare per i vari problemi che devo affrontare però è un'esperienza completamente diversa fare il consigliere comunale innanzitutto predispone una presenza meno assidio qua all'interno del comune mentre l'esperienza che mi sto approssimando ad iniziare che in realtà è iniziata già il giorno dopo della vittoria delle nostre elezioni perché oggi sono state conferite ufficialmente le nostre delevi ma noi siamo al lavoro dal primo giorno perché purtroppo il passaggio tra un'amministrazione e un'altra non prevede un periodo di rotaggio prevede l'immissione direttamente nel tuo ruolo H24 perché il nostro lavoro non finisce quando usciamo dalle porte del comune abbiamo incontri, problemi da risolvere quindi diciamo che è un impegno che stiamo prendendo che assorbe buona parte della nostra giornata Ultima battuta brevemente politicamente lei avrebbe immaginato qualche mese fa che oggi sareste stati ad amministrare la città? Lo speravo Non aveva dato per scontato che... Assolutamente no perché i sentori erano buoni per quello che percepivamo dalla gente però un conto è il sentire magari ti fai prendere anche dall'emozione dalla speranza che il tuo progetto, il nostro progetto vada avanti però aspettavamo sempre l'esito delle elezioni e devo dire che i sentori erano positivi e ci hanno dato ragione per fortuna Una truffa online è stata scoperta a Misili Scemi il neonato comune trapanese un uomo aveva contrattato l'acquisto di un trattore versando un acconto ma i suoi venditori sono nel frattempo spariti a Castelvetrano invece si è verificato un episodio di truffa ed estorsione c'è il servizio Le truffe online sono ormai un'autentica piaga un nuovo modello criminale in cui soggetti senza scrupoli sono in grado di inserirsi gabbando puntualmente altre persone in buona fede o senza retropensieri L'ultimo episodio è successo a Misili Scemi il neonato comune trapanese dove i carabinieri della locale stazionano hanno denunciato tre soggetti calabresi, due uomini e una donna di età compresa tra 20 e 35 anni Sono tutti accusati di truffa in concorso Secondo i militari dell'arma avevano preso di mira un trapanese intento nell'acquisto di una macchina agricola su internet Ne è scaturita una trattativa a distanza che secondo il malcapitato si sarebbe dovuta concretizzare con l'acquisto del mezzo al costo finale di 3.000 euro Ma ecco dietro l'angolo il momento della truffa Al trapanese infatti è stato chiesto di versare su una carta poste pay una ricarica di 900 euro a titolo di acconto Da quel momento dei cosiddetti venditori si sono perse le tracce I successivi tentativi di rintracciarli da parte dell'acquirente in cauto sono andati a vuoto ed è stato quando ha scoperto che quel trattore per il quale aveva versato un acconto di 900 euro non era nemmeno in vendita che all'uomo si è rivolto finalmente ai carabinieri i quali al culmine di minuziose indagini sono riusciti a risalire all'identità dei presunti truffatori a denunciarli scoprendo che non era la prima volta che agivano secondo questo modus operandi e che in passato avevano già messo a segno altre truffe del genere Le indagini non finiscono qui, anzi continuano per raccogliere ulteriori riscontri investigativi Sempre oggi i carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno arrestato un 53enne di Castelvetrano già gravato da precedenti per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all'ipotesi di reato di estorsione e furto aggravato Secondo i militari avrebbe rubato un ciclomotore che il legittimo proprietario aveva parcheggiato di fronte la propria abitazione L'intervento dei carabinieri è arrivato dopo che la vittima del furto aveva riconosciuto il ladro attraverso la visione di immagini da un sistema di videosorveglianza evidentemente nella sua disponibilità pretendendo la restituzione del veicolo Il ladro glielo ha restituito trattenendo però per sé la targa chiedendo del denaro in cambio della restituzione di quest'ultima Ne è scaturita la denuncia ai carabinieri I militari dell'arma hanno organizzato un articolato servizio sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala finalizzato a documentare l'effettiva cessione di denaro la contestuale restituzione della targa del veicolo Infatti una volta concluso lo scambio i militari appostati hanno fermato il 53enne trovandolo in possesso delle banconote appositamente contrassegnate che aveva appena ricevuto Per questi motivi il 53enne è stato arrestato ristretto agli arresti domiciliari secondo quanto disposto dal magistrato in sede di udienza di convalida il competente giudice ha valutato gli elementi indiziari forniti dai carabinieri ritenendo opportuno sottoporre il presunto responsabile alle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa in orario serale Incidente stradale questa mattina incontrata abbaiate tra Siculiano e Real Monte un motociclista ha subito più traumi e contusioni a causa dell'impatto con una pecora che all'improvviso è sbucata lungo l'arteria stradale ha cercato di evitarla ma non è stato possibile l'animale è stato investito il motociclista è sbalzato dalla sella ed è finito pesantemente sull'asfalto subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche lanciato l'SOS al 118 il motociclista è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento i medici hanno sciolto la prognosi in circa 30 giorni e di 4 feriti di cui uno grave che è stato trasferito d'urgenza con elisoccorso all'ospedale di Caltanisset il bilancio di uno spaventoso incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro tra la prima e la seconda galleria in direzione di Agrigento a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento due automobili una Fiat 500 finita fuoristrade e una Peugeot 108 tre dei feriti sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ambulanza al pronto soccorso le condizioni del quarto ferito invece sono apparse più critiche e per questo è stato fatto atterrare un elisoccorso che è ripartito immediatamente alla volta dell'ospedale Sant'Eglia di Caltanissetta sul posto di agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ancora cronaca fermato da un posto di blocco nel centro di Agrigento durante lo svolgimento della processione di San Calogero ha deciso di accelerare e non accostarsi dopo un breve inseguimento gli agenti della sezione volanti della questura riescono a bloccarlo e hanno scoperto che era alla guida dell'auto senza patente così per un nigeriano domiciliato da anni ad Agrigento è scattata la denuncia è una maxisanzione da 5.000 euro per guida senza patente la vicenda dei canoni rigui ma anche quella della vetustà degli impianti della gestione del consorzio di Bonifica ieri pomeriggio a Palermo il confronto tra i sindaci del comprensorio di Ribera e l'assessore all'agricoltura Scilla tra le novità emerse oltre alla conferma dello scongiurato aumento del costo dell'acqua all'arrivo dei fondi covid per l'anno 2020 a favore degli agricoltori l'approvazione di un progetto di rifacimento delle condotte idriche per 10 milioni di euro c'è il servizio la giunta regionale ha approvato le variazioni di bilancio che adesso saranno trasmesse all'ars per l'esame d'approvazione definitiva ci sono 22 milioni di euro per i consorsi di Bonifica dell'isola quelli che consentiranno di non aumentare le tariffe rigue lo ha confermato l'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla ai sindaci di Ribera e dei comuni del comprensorio una riunione quella di ieri pomeriggio chiesta dai sindaci della zona per fare il punto sulle tante diverse criticità del comparto agricolo e il sindaco di Ribera Matteo Ruvo l'evidenziare le novità emerse abbiamo discusso dei problemi che riguardano la nostra agricoltura in particolare il consorzio di Bonifica e il sistema in riguo un'altra nota positiva è il fatto che sono state scongelate le somme cosiddette covid per l'anno 2020 che andranno a favore dei nostri consorziati dei nostri agricoltori che per il 2020 pagheranno soltanto il 50% del canone riguo e facendo delega il consorzio per la rimanente parte che dovrà avere il vingolo quindi sono delle somme che saranno destinate al miglioramento delle reti idriche delle condotte le riparazioni laddove il servizio è carente e presenta delle criticità stiamo parlando di una somma intorno ai 25 milioni di Euro quindi anche questa è una somma un'altra nostra richiesta è stata quella di poter consentire a circa 200 imprenditori parliamo di circa 300 ettari di agrumeto che non sono serviti alla rete irrigua e quindi da parte del consorzio non possono ricevere l'acqua per irrigare i propri agrumeti stiamo parlando nella zona alta del castello Ponte Scifoti e zona di Burgia di Villa Franca perché si faccia parte dirigente l'assessore ha chiamato immediatamente in nostra presenza il direttore Santoro dell'autorità di Bacino è contattato anche l'Enel e per oggi è fissato l'incontro alle due tra consorzio di bonifica Enel e autorità di Bacino per poter rilanciare sull'alveo del fiume un quantitativo d'acqua circa la richiesta è stata di 400 mila metri cupi per poter consentire anche a questi agricoltori di poter irrigare i loro agrumeti ma in fretta perché si rischia di perdere la stagione agrumicola e su questo si è impegnato l'assessore oggi sono stato avvisato che c'è un tavolo tecnico proprio con il direttore generale di Enel i rappresentanti del consorzio e l'ingegnere Santoro dell'autorità di Bacino per stabilire il quantitativo d'acqua da rilanciare in questa porzione di territorio e un'altra cosa che si è chiesta e che si deve attenzionare è il fatto di poter programmare e presentare progetti e sappiamo tutti la storia dei 31 progetti bocciati sul PNRR ma una buona notizia è che uno di questi progetti che riguarda il nostro comprensorio il comprensorio dell'agricento treve di Berese in particolare ha avuto un finanziamento di 10 milioni di Euro con un'altra fonte di finanziamento non sul PNRR quindi quel progetto che era stato bocciato dal Ministero come PNRR invece ha avuto l'accoglimento il finanziamento si aspetta il decreto con altra linea il finanziamento sempre ministeriale che cosa riguarda Sindaco questo progetto sarà il rifacimento di condotte idriche in zone non servite e il miglioramento e la sostituzione di linee condotte che portano e arrivano fino all'esistente adduttore che collega con la diga Castello quindi è un'opera importante che permetterà e consentirà di sistemare di riparare di servire notevole territorio agrumetato e pieno di frutteti nel nostro comprensorio sulle ulteriori rassicurazioni fornite dall'assessore all'agricoltura Scilla sono intervenuti oggi i parlamentari regionali di Forza Italia Margherita e la Roccarubo del Riccardo Gallo quelle circolate in questi giorni hanno scritto sono informazioni non vere strumentali non ci sarà alcun aumento delle tariffe in rigue pubblica illuminazione non funzionante sono diverse le zone della città da cui arrivano segnalazioni alla nostra emittente a lamentare la condizione di pericolo e insicurezza derivante dal mancato funzionamento dei pali della pubblica illuminazione sono i residenti di via Melfi incontrata Isabella da quelle parti si registra questa condizione da quasi un anno e fino ad oggi a niente sono balse le sollecitazioni rivolte agli uffici comunali affinché la ditta incaricata di svolgere il servizio intervenga per il suo ripristino non va meglio incontrata Fontana Calda dove in via Tacci sono al buio da quasi due mesi con i versipali dell'impianto guasti e in via delle azalee dove i residenti riferiscono di un guasto da almeno tre mesi danni a cui conseguono i relativi disagi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini il libero consorzio di agrigento ha attivato il servizio di vigilanza antincendio lungo alcune strade provinciali ed alcune statali della provincia per supportare l'attività degli enti ai quali sono demandati prevenzione e contrasto degli incendi boschivi sarà svolto dal personale dell'ufficio di protezione civile e dai volontari dell'associazione AEOP di Ribera che ha dato la propria disponibilità il servizio si concluderà il 31 agosto e sarà svolto nelle giornate a maggiore rischio incendio con dichiarazione del livello di allerta alto dalle ore 12 alle 20 con squadre composte da due dipendenti dell'ufficio di protezione civile e due volontari dell'associazione di Ribera Covid via libera la quarta dose anche per gli over 60 e l'incremento dei contagi anche nelle nostre zone sta spingendo la vaccinazione dopo giorni di calma piatta con il minimo storico di tre somministrazioni in una giornata all'hub vaccinale di Sciacca ieri sono state effettuate 66 vaccinazioni tra terze e quarte dosi e oggi 80 sentiamo quarta dose del vaccino anti-covid anche per gli over 60 il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato la decisione dopo la raccomandazione del lema il via libera dell'AIFA la decisione è stata presa tenuto conto sia dell'attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica associata ad aumento dell'occupazione di posti letto nelle aree mediche e in minor misura nelle terapie intensive sia delle evidenze disponibili sull'efficacia della seconda dose di richiamo nel prevenire forme gravi di covid-19 da oggi quindi oltre agli ultra ottantenni e ai fragili di qualsiasi età a partire dagli 11 anni anche gli over 60 potranno effettuare la dose booster persistono i dubbi legati soprattutto all'annunciato arrivo in autunno dei nuovi vaccini anti-covid quelli adattati alle varianti omicron ci si chiede quindi se non sia il caso di aspettare i nuovi vaccini rispetto a quelli di cui disponiamo da un anno e mezzo la maggior parte degli esperti e lo stesso ministero della salute e istituto superiore di sanità non hanno alcun dubbio soprattutto per i soggetti ritenuti fragili con diverse patologie per gli anziani a fronte dell'estate che non ci aspettavamo con un escalation di contagi che non mostra alcuna flessione adesso si è deciso di allargare la platea degli eventi diritto alla dose booster anche ai sessantenni intanto dopo settimane di calma piatta al lab vaccinale di Contrada Perriera a Sciacca si registra proprio negli ultimi giorni un incremento di richieste dopo che si è arrivati a toccare il minimo storico ossia tre sole somministrazioni in una giornata evidentemente i numeri del contagio a Sciacca così come negli altri comuni del circondario stanno generando più di qualche apprezzione tra chi pur avendone diritto non aveva ancora effettuato la dose booster e chi ancora non aveva ricevuto la terza somministrazione 66 quelle effettuate ieri 80 quelle fatte oggi numeri che possono apparire insignificanti in relazione alle code che lo scorso anno anche in questo periodo si registravano ma che invece sono rilevanti per gli operatori della struttura che di settimana in settimana e ormai da mesi erano in servizio ma per somministrare meno di una decina di vaccini al giorno hub vaccinale di Sciacca che è al servizio dell'utenza del territorio e che rimane aperto lo ricordiamo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 dopo dieci anni di chiusura a Burgia è stata riaperta e consegnata alla comunità la storica chiesa della misericordia all'inaugurazione hanno preso parte anche l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano e l'assessore regionale Marco Zambuto abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato dichiara al nostro microfono il sindaco Franco Matinella con il restauro che è stato reso possibile grazie ad un finanziamento regionale da 850 mila euro per noi Calogero Parla Piano è stata riaperta dopo una chiusura di circa 10 anni la chiesa delle anime sante del purgatorio o della misericordia di Burgio ieri pomeriggio una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano ha sancito questo momento importante per la comunità sicana presenti ovviamente anche il sindaco di Burgio Franco Matinella ma anche l'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto e altre autorità civili militari e religiose la riapertura è stata possibile grazie a dei lavori per 850 mila euro finanziati dalla regione siciliana che hanno permesso il restauro degli stucchi del pavimento e dei locali oggi dopo 10 anni di chiusura riapriamo la chiesa della misericordia dopo un lungo restauro che è stato fatto con un finanziamento che abbiamo avuto dall'assessorato a Brasstrutture di circa 800 mila euro e oggi completiamo dopo che è stata restaurata oggi ci sarà la consegna ai cittadini alla chiesa di questa bellissima struttura io in questi 4 anni già è la seconda chiesa che riapriamo prima abbiamo riaperto la chiesa del Carmine e questa è la seconda chiesa ora non abbiamo più chiese in agibile a Burgio sono tutte disponibili per le comunità grazie al PNR è arrivato anche un finanziamento per la chiesa di San Vito sì sì questo devo ringraziare in modo particolare il sovrintendente l'architetto Benvari perché è stato lui a inserire la chiesa di San Vito nei finanziamenti del Ministero dei Beni Culturali ed è stato accolto in quanto la chiesa di San Vito fa parte del FEC e questa è una cosa importante perché oltre cioè nella chiesa c'è necessità soprattutto nella sacristia e alcuni lavori urgenti che nella parte terminale del tetto dove ci sono delle invicciazioni questo è un ottimo un ottimo risultato ringrazio ancora l'architetto per avere pensato a Burgio certamente restituire un edificio di culto una comunità è sempre un dono certamente è un dono anche perché i luoghi di culto sono riferimento del paese ecco sono riferimento del paese e allora dopo anni di chiusura si riconsegna questa chiesa alla cittadinanza a tutta la cittadinanza il numero delle chiese non significa il moltiplicare delle messe assolutamente no sarebbe un'interpretazione povera della fede quindi la ricchezza delle chiese ripeto indica anche il percorso la storia di un paese ma la celebrazione dei sacramenti in capo a tutti la celebrazione della messa quella sembra che sia importante che rimanga in qualche modo centralizzata proprio per realizzare la stessa preghiera di Gesù al Padre fa Padre che siano tutti una cosa sola è un significato importante per noi perché ci fa vivere con lo sguardo proteso sempre verso le cose del cielo sapendo che non siamo fatti per questo mondo ecco il titolo della parrocchia della chiesa è anche quella dedicata alla misericordia questo per la nostra comunità è un grande segno perché incarna un po' lo spirito del Vangelo lo spirito del quale ognuno di noi si dovrebbe fare portatore lo spirito della pace e lo spirito della misericordia perché ognuno di noi come ci invita il Vangelo ad essere siamo tutti segno della misericordia di Dio Burgio dicono tanti che è ricca di chiese ma proprio perché è ricca di chiese ha bisogno di tanti fondi perché bisogna anche che queste chiese vengano anche mantenute e quindi è veramente un paese molto ricco per le chiese che noi abbiamo e ringraziamo il Signore per quello che anche gli abitanti hanno fatto per questo paese anche i sindaci che si sono succeduti negli anni in particolare voglio ricordare anche il sindaco Matinella per quello che ha fatto con l'amministrazione comunale perché veramente l'anno scorso abbiamo avuto la riapertura della chiesa del Carmine quest'anno e questa della chiesa della divina misericordia e siamo contenti perché questo paese va sempre avanti Sacrum Sacche Teatrum guida alla presenza religiosa estinta nella città di Sciacca questo è il titolo del libro scritto da Calogero Segreto presidente della sezione locale d'Italia Nostra il volume edito dalla Melkart Communication è interamente a colori ripercorre chiese monasteri commenti ospizi e confraternite religiose che hanno fatto la storia di Sciacca vediamo a Calogero Segreto è già disponibile da qualche giorno questo volume dedicato alla guida sulla presenza religiosa estinta nella città di Sciacca di che cosa tratta questo volume e che cosa raccoglie? si tratta di un lavoro iniziato diversi anni fa che poi fu trasferito in una trasmissione televisiva e che ora io ho deciso di trasferire diciamo sulla carta stampata non è altro che una guida su quella che era la presenza religiosa nella nostra città che ora non esiste più e che tende principalmente a sottolineare l'importanza che la presenza religiosa anche quella estinta ha avuto nella identificazione della identità della nostra città si tratta di mettere a confronto i vari storici della nostra città dal Bonaventura San Filippo il Ciaccio lo Scaturro il professore Cantone che ci hanno prodotto tutta una serie di notizie su questa presenza raffrontarle vedere se ci sono delle contraddizioni o se invece le cose verificano e poi andare sul posto a verificare ulteriormente questa presenza non si tratta solo di chiese o monasteri che sono scomparsi ma si tratta anche di manufatti architettonici ancora esistenti ma che non svolgono più una funzione religiosa quindi ci sono per fare un esempio la chiesa di Santa Margherita la chiesa dello Spasimo che sono manufatti possiamo dire ancora integri della presenza religiosa ma che ormai non svolgono più un ruolo e una funzione religiosa come la guida parla invece anche di presenze che non ci sono più oppure di disegni delle antiche chiese che sono rimasti nelle facciate della nostra città quindi si tratta di una guida che tende a far rivedere i luoghi della nostra città in modo diverso non facendo vedere quello che c'è ma illustrando quello che non che non c'è più il libro oltre a contenere tantissime fotografie a colori raccoglie anche le confraternite un capitolo molto interessante sì io rispetto al lavoro iniziale che si basava solo sulle chiese scomparse ora ho aggiunto altri due capitoli non solo il libro non tratta solo di 69 chiese che non ci sono più o meglio che non svolgono più la funzione religiosa ma anche di 24 monasteri ospizi e conventi e poi di una serie di confraternite che fino a qualche anno fa qualche decennio fa esistevano e che ora sono scomparse e anche queste fanno parte di presenze religiose estinte nella nostra città però per far capire il peso che è la chiesa e la cultura religiosa ha avuto nella nostra storia e come dicevo prima nella creazione dell'identità cittadina basta citare Rocco Pirro che dice che nel nel Settecento Sciacca faceva 8.000 abitanti e più del 5% della popolazione era composta da clero e religiosi questo per far capire come ha inciso la presenza della chiesa nello sviluppo non solo urbanistico perché anche in quello ma anche culturale della città basti pensare a presenze che hanno avuto una grossa incidenza nella cultura di Sciacca i gesuiti o i i Domenicani oppure basti pensare che tutti i maggiori storici la maggior parte degli uomini illustri della nostra città provene dal clero a cominciare dal fazello a finire a quello più recente il Ciaccio o il Monsignor Cassar e via di seguito quindi lo scopo è quello lì di dare come dicevo prima una guida anche da percorrere attraverso la città ma nello stesso tempo di far capire che incidenza ha avuto la religione e quindi la chiesa nella nostra cultura un'ultima considerazione sulla presentazione del libro che è stata già organizzata e già possiamo invitare chi ci ascolta sì la presentazione sarà il 22 venerdì 22 luglio in una chiesa estinta Santa Maria della raccomandata e presenteranno il libro ci sarà diciamo una voce religiosa e una laica il Monsignor Giuseppe Marciante la ciprete di Sciacca e l'avvocato Francesca Valenti e che si sindaco di Sciacca e diciamo presenteranno il libro su due ottiche diverse quella laica e quella religiosa quindi invito a chi fosse interessato a venire e nel frattempo tra l'altro dico che il libro si trova in tutte le librerie di Sciacca adesso spazio alla rubrica il libro del giorno Palermo 1897 lavorano in coppia in sincrono perfetto Franca e Rosa le dita sottili ed esperte arrotolano foglie di tabacco da mattina a sera amiche da sempre le due ragazze sono cresciute insieme in un borgo di pescatori spalmato ai lembi della città accanto alla manifattura tabacchi dell'acqua santa diverse come il sole e la luna impetuosa Franca e timida Rosa respirano tutto il giorno l'aria greve della fabbrica sotto lo sguardo predatorio dei padroni ma all'ennesimo sopruso Franca decide che è ora di alzare la testa e lottare per un diritto che alle femmine sembra negato la dignità così insieme a Rosa e Salvo un sindacalista che ha il suo stesso spirito indomito e appassionato combatterà per aprire un baliatico all'interno della manifattura uno dei primi asili per i figli delle lavoranti in una fabbrica nel regno e scoprirà il prezzo da pagare per difendere le proprie idee e il proprio amore una storia vera di riscatto e amicizia che illumina una battaglia pionieristica e ancora sconosciuta sullo sfondo di una Palermo che non finisce mai di incantarci Le donne dell'acqua santa di Francesca Maccani Edito Rizzoli Sport il Sacenze Salvatore Catanzaro ha vinto lo slalom della Valle dell'Oiato un grande risultato per il pilota Sacenze autore finora di un'ottima stagione agonistica nel servizio spazio anche al basket con le attività e il camp della Icaro Sciacca di Giovanni Monastero Vediamo Buona cornice di partecipanti e di pubblico per la prima edizione dello slalom Valle dell'Oiato manifestazione sportiva organizzata dal sodalizio Tim Palichè che si è tenuta tra San Giuseppe Iato e San Cipirello nel Palermitano La gara è stata vinta dal pilota Sacenze Salvatore Catanzaro al fiere della scuderia Armanno Corse Sulla sua formula Gloria B5 Evo Suzuki Catanzaro alla sua prima vittoria assoluta in carriera ha avuto la meglio su Di Falco e su Tumbarello La Kermess ha consegnato punti sia per il Challenge Palichè sia per il Prix Serena Casubolo Per Catanzaro finora autore di un'ottima stagione agonistica con tanti piazzamenti nelle top 10 assolute delle varie gare ha anche il primo posto nel suo gruppo e nella sua classe di appartenenza Le foto sono sempre di Manuel Marino Tra i saccensi in gara anche Tony Russo su Fiat 500 bicilindrica che ha portato a casa il secondo posto di gruppo bicilindrico e il primo di classe gruppo 2 Alla crono scalata tra Giarra e Milo invece ha gareggiato il seccense Calogero Damanti su Ford Fiesta che ha conquistato la terza posizione di classe produzione Evo 1006 E passiamo alla pallacanestro Il coach Giovanni Monastero ha ottenuto l'incarico di RTP ossia il responsabile tecnico provinciale Questo significa che tutti i migliori talenti della provincia del Grigento saranno visionati da Monastero prima di essere convocati dal coordinatore regionale Ivan Drigo che poi li valuterà a sua volta in vista degli impegni delle varie nazionali giovanili Recentemente si è tenuto un primo raduno provinciale alla Sicilia Sport nell'ambito del quale sono stati valutati gli atleti nati nel 2007 2008 e 2009 Ieri invece si è tenuto un match avvichevole tra due squadre chiamate Sicilia Est e Sicilia Ovest che si è svolto al Palamon Carlo di Grigento con Monastero che si è occupato del 2007 Est Intanto Asciacca presso località Tonnara ha preso il via la prima settimana di Bomber Camp L'ospite di questa prima fase di iniziativa sportiva è Guido Bertoglio ex giocatore di basket a Castelvetrano e oggi allenatore FIP e responsabile del mini basket in provincia di Trapani Lo sport chiude il nostro notiziario vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi rinnoviamo come sempre l'appuntamento alle prossime edizioni Grazie e arrivederci per la vostra attenzione